Mercoledì 6 maggio ricorre l'anniversario del 44 terremoto del Friuli. È una data importante per noi perché con la distruzione del 6 maggio e poi dell'11 e 15 settembre il Friuli ha cambiato volto. Per noi è una memoria importante, è una memoria prima di tutto di dolore. Gemona con le sue 400 vittime del terremoto è sicuramente stata la città più colpita da questo disastro e è una memoria in secondo luogo anche di fatiche e di sofferenze. Fatiche da parte dei terremotati prima di tutto. Ricoveri di fortuna, tende, esodo a Lignano, baracche prefabbricati, una vita di tanti anni ma anche per gli amministratori una fatica perché hanno dovuto inventare una legislazione nuova per dare occasioni di rinascita. E infine è anche una memoria di solidarietà perché da tutto il mondo istituzioni e organismi sono intervenuti a darci una mano e voglio ricordare le migliaia e migliaia di volontari che sono stati qui in tutto il Friuli terremotato e in particolare anche l'opera dei gemellaggi diocesani che abbiamo celebrato con solennità nel quarantesimo anniversario del terremoto. Se dovessimo ricordare queste memorie con dei segni particolari dovremmo dire che lacrime, sudore e mani aperte, mani generose potrebbero essere il segno, i segni che ci ricordano questo evento. Purtroppo questa memoria di popolo sarà celebrata senza il popolo, senza la partecipazione delle persone e questa memoria sarà celebrata a Montenars alle ore 18 e a Gemona invece alle ore 20, con la presenza dell'amministrazione comunale, in particolare del sindaco e di alcune autorità nel Duomo. Alle 21 vi invito nelle vostre famiglie a spegnere i rumori in casa, ad aprire le finestre e ad ascoltare i 400 rintocchi della campana del castello che ci ricorderanno le vittime del terremoto. Quel suono che è stato avviato all'indomani del terremoto continua anche oggi a spingerci su un cammino solidale, su un cammino di fratellanza, sull'unico cammino nel quale è possibile avere un futuro.